Ciao a tutti, in questo periodo che è un periodo per molti sfidante, in realtà un periodo di grande crescita, il team Divine Connection e io abbiamo deciso di farvi un regalo. Abbiamo registrato una meditazione proprio per voi, per tutti voi. Il suggerimento è quello di ascoltarla tutti i giorni fin quando ne sentite bisogno. È una meditazione veramente piena di contenuto, è una meditazione anche piuttosto lunga e abbiamo scelto di non dare a questa meditazione un nome. Quindi tu cosa farai? La potrai scaricare, la ascolterai e nei commenti sotto questo video puoi scrivere il titolo migliore per te. Poi io e il team Divine Connection lo sceglieremo. Vuoi giocare con noi? Bene, allora fai questo gioco, segna il titolo e poi magari condividi anche la tua esperienza dopo aver seguito la meditazione, dopo averla fatta e facci sapere come stai. Un abbraccio di luce dal team Divine Connection e da Patrizia. Ciao, a presto! Ciao!